Tre anni di carcere per Fulvio De Santis e Giovanni Ricciotti e due per Giancarlo Tullio. Arriva al Capolinea il processo Sangalli con il pubblico ministero che ha presentato le sue richieste di condanna per la vicenda sull'appalto dei rifiuti che ha coinvolto prima il comune di Ferentino e successivamente quello di Frosinone. A finire in carcere nel dicembre del 2013 erano appunto stati il vice sindaco di Frosinone e Fulvio De Santis, l'architetto Giovanni Ricciotti e l'imprenditore Giancarlo Tullio. Secondo le accuse dei magistrati, la ditta Sangalli, per avere la giudicazione dell'appalto, si sarebbe accordata con De Santis e Ricciotti che avrebbero aggiustato la gara proprio per far vincere la ditta di Monza. Tutto questo in cambio di una maxi tangente di oltre 2 milioni di euro. Gli imputati hanno sempre respinto le accuse, ritenendole infondate sia durante i mesi di detenzione che successivamente. È atteso per il prossimo 29 novembre il pronunciamento della sentenza.